Grazie Presidente. Allora, io ho ascoltato tutto quanto il dibattito, ovviamente molto interessante, però credo che non sia stato colto il punto centrale dell'atto che noi andiamo ad approvare. Io vorrei tornare un po' indietro con il tempo a quando già da qualche anno c'è stato qualche problema con i bilanci Ama e con i famosi 18 milioni dei servizi cimiteriali. Ebbene, questa attenzione che questa amministrazione ha posto ai bilanci come precondizione per far sì che il servizio possa funzionare ha fatto sì che di fatto noi aprissimo il vaso di Pandora relativamente ai problemi che ci sono nei bilanci di Ama. E questa cosa, in questo atto che noi andiamo ad approvare, si evidenzia con nettezza. Tant'è vero che scava scava all'interno dei bilanci per l'attenzione che questa amministrazione sta ponendo alla pulizia dei conti, lo ripeto, come precondizione perché possa essere pulita anche la città, abbiamo scoperto che effettivamente negli anni passati ci sono tanti crediti che Ama dovrebbe avere avere proprio denaro nelle casse, ma che in realtà non ha, non ha perché sono crediti inesigibili. Allora, dobbiamo fare pulizia da questo punto di vista. E in questa delibera si fa pulizia, si fa pulizia per i crediti inesigibili degli anni 2003-2009 e vengono spalmati su quattro anni. Quello che non viene colto, che di fatto quello che prima erano 104 milioni ma erano fittizi, non erano veri, che stavano nel bilancio di Ama, adesso nel corso di quattro anni diventerà moneta sonante, diventeranno soldi che entreranno nelle casse di Ama e entreranno nella casse di Ama quest'anno ben 36 milioni che non erano previsti, che è ossigeno, ossigeno per questa società. Io vorrei ricordare che nell'atto che noi andiamo ad approvare c'è anche questa disposizione di Arera che ovviamente noi recepiamo immediatamente ed è quella di tagliare la Tari per le utenze non domestiche per il periodo che sono rimaste chiuse. A bilancio ci sono 35 milioni per questo ed è questo il motivo per cui noi siamo stati contrari agli ordini del giorno per le scuole private, paritarie, perché già ci sono questi fondi all'interno di quest'atto che noi andiamo ad approvare. Io credo che non sia stata colta l'importanza dell'azione che noi stiamo facendo con questo piano economico e finanziario. Ci sono diversi dati importanti che vengono evidenziati e per cui noi, io sono convinto, ovviamente è emerso nell'ambito della discussione, ci sono i bilanci non approvati e sono oggettivamente un problema, ma noi così stiamo mettendo un tassello per pulire i bilanci di AMA. Io sono convinto che questo piano economico e finanziario è la precondizione per far sì che presto si possa arrivare all'approvazione di questi bilanci importantissimi, ma che l'attenzione che questa amministrazione ha posto ai bilanci alla fine ci ha dato ragione, perché era l'operazione che dovevamo fare per fare pulizia e far sì che il servizio possa migliorare anche nella città. Adesso verranno dati questi soldi in più ad AMA e ci auguriamo che questo possa essere un bel contributo per migliorare la qualità del servizio. Non entro nelle questioni dell'Atari di quest'anno perché noi adesso voteremo, nella prossima delibera, proprio discuteremo su questo aspetto. e per tutti questi motivi dichiaro il voto favorevole, anzi strafavorevole, della maggioranza a questa delibera. Grazie.